Completati in tre mesi i lavori di riqualificazione e ristrutturazione del campo sportivo Silvio Renzulli di Ariano Erpino. L'amministrazione comunale del Tricolle, con un mutuo sottoscritto nel dicembre 2016 di circa 524.000 euro, ha provveduto alla messa in posa di 6.500 metri quadrati di manto sintetico e all'omologazione del campo per la disputa dei campionati dilettantistici fino all'eccellenza. Dopo la prima partita giocata all'Arena Mennea, domani l'Ariano debutterà sul Silvio Renzulli, suo luogo naturale diciamo, e speriamo che il Silvio Renzulli porti più fortuna rispetto alla prima di campionato dove purtroppo hanno iniziato con una sconfitta, anche giocando bene però i ragazzi. Grazie a un finanziamento dell'Istituto Credito Sportivo si è riuscito a rifare il manto erboso di questo campo che era un manto che ormai aveva oltre 10 anni, era da 13 anni che era stato rifatto, quindi con una nuova tecnologia, un nuovo manto, un nuovo tipo di riempimento anche con sabbia e con del materiale plastico verde e quindi niente, siamo felicissimi di dare quest'altra struttura alla città di Ariano Irpino. Ora con gli avanzi delle gare rifaremo anche gli spalti e ad altri lavori di restyling che comunque servono a questo campo, quindi nel giro di un paio di mesi riusciremo a completare tutti gli interventi su questo campo. Il nuovo impianto di erba sintetica, il precedente era stato installato nel 2003, 15 anni sono un tempo molto lungo per questi impianti, siamo riusciti a trovare risorse grazie al mutuo con il credito sportivo, è un mutuo senza interessi per cui restituiamo soltanto il capitale già da questo bilancio e devo dire che i lavori sono riusciti molto bene, abbiamo avuto l'omologazione del campo in vista del campionato di promozione che svolgerà la Vissariano e mettiamo a disposizione questo impianto dei giovani di tutte le altre squadre della città. E intanto per le universiadi la città come è in messa? Noi speriamo di coinvolgere subito le scuole, le scuole, i docenti di educazione fisica, dalle elementari alle superiori perché questo è un momento di promozione della città ma anche dello sport giovanile a livello mondiale, è una grande vetrina per la campagna ma anche per la nostra città. Il palazzetto dello sport ospiterà gare non di secondo piano ma appunto le eliminazioni del torneo di pallavolo anzi speriamo in questa fase così importante che anche la nazionale italiana di volley sia il volano per promuovere ancora di più la pallavolo nel nostro paese.